Ma credo la seconda, quella sul colpo di testa nel secondo tempo, credo... Sì, esatto, più che altro per scelta di tempo, per reattività, sì credo quella. Quella in diagonale che sei andato ad allungarti? Sì, anche quella, devo dire, non è stato facile ma ringrazio tanto Sinisa Ndekovic perché avere in difesa uno come lui che è sempre sull'attenti a volte aiuta a compensare una parata e a portarla in salvo. E quindi sì. Quali sono state le difficoltà oggi? Solo il campo? La pressione dell'Entella? Ve l'aspettavate così? Abbiamo visto che l'Entella in casa loro è una squadra assolutamente non scontata e anzi abbiamo avuto molte difficoltà oggi. Siamo riusciti a creare meno del solito, a volte uno deve saper leggere la partita nel modo corretto e a volte quando si trova questo tipo di squadra è metterla un po' più sull'agonismo, anche mettiamola così ignoranza. Però ogni parita è diversa e oggi c'è da fare anche complimenti a loro.